Il mio desiderio sarebbe quello di liberare più esseri umani dalle catene che legano a questo piano incarnazionale, a questo piano di un terreno, ma non nel modo in cui lo intende la New Age o le correnti spirituali rivolgendosi ai cieli, ma come disse buon Gesù, il paradiso è qui in mezzo a voi. E invece l'umanità vive all'inferno, alcuni in purgatorio, ma la maggior parte delle persone vivono una sorta di inferno per tutta la vita. Anch'io ho vissuto per tanto tempo in una forma di inferno personale, ognuno ha il suo, ma la mia mente e il mio cuore devono farsi delle domande e anche ottenere delle risposte. Io voglio sapere perché, perché l'umanità soffre, cos'è che ci ha condannato tutti quanti a vivere delle vite penose, misere, vuote, difficoltose, traumatiche. Ora, essendo nel mondo spirituale ed esoterico ormai da tanti anni e avendo letto tanti libri, seguito tanti guru, fatto tanti corsi e certamente essendo legato principalmente alla figura di Ermete Trismegisto, una risposta ovviamente Ermete la dà abbastanza chiara all'interno del Corpus Hermeticum, laddove nel capitolo 13 dice a Tath dove vuole comprendere come liberarsi dai tormenti della vita, ma Tath asserisce che ignora che nella vita vi siano dei tormenti e appunto Ermete dice già il fatto che l'ignori, l'ignoranza è già il primo fattore. Nelle tavole smeraldine, che è un materiale in realtà canalizzato dopo tutta una lunga disquisizione, le tavole smeraldine si concludono con l'umanità si trova in catene nel suo stato di evoluzione o nel suo piano di evoluzione, ma nell'uomo c'è la chiave per liberarsi. Ecco ovviamente io mi sono chiesto, bene, qual è questa chiave? Perché io devo capire qual è questa chiave, al di là ovviamente dei dodici tormenti che vanno studiati, approfonditi, lavorati e compresi. Il primo livello io pensavo fosse quello della Matrix, quello riportato anche all'interno dello stesso film Matrix, nel momento in cui Morpheus dice tanti di loro sono così disperatamente assuefatti e dipendenti dal sistema, che ucciderebbero per salvarlo o eventualmente morirebbero, dice, quando mai ucciderebbero, visto il Covid. Per un certo periodo di tempo ho pensato, e ovviamente One World, che spero sarà edito a breve, che parla della globalizzazione e del nuovo ordine mondiale, fosse il grande inganno, il mondo che ti hanno messo davanti quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. Sì è vero, è un mondo menzognero, costruito al contrario, per trarti in inganno. Non è un mondo costruito per l'uomo, non è un mondo costruito per crescere sani all'interno di comunità sane, al contrario, è un sistema violento e verticistico, che crea violenza sistemica e che crea traumi di continuo. Sì certo, questo è il primo livello. Un sistema manipolatorio, che ti fa cadere continuamente all'interno di un inganno. È certamente vero. Le parole sono le armi di questo sistema. Già che, quando studiavo PNL, ovviamente mi sono concentrato molto su come, non soltanto nel mondo moderno, i media utilizzano la comunicazione, la pubblicità, i politici e ovviamente le think tank di pensiero, i gruppi occulti, utilizzano la propaganda per i loro scopi. Ma da chi hanno imparato? Beh, dalle religioni ovviamente. È un grande sistema di manipolazione. Nel nostro occidente sono stati appunto i sette peccati capitali, che in parte hanno a che fare con i dodici tormenti, ma sono sempre stati presentati nel modo più incatenante possibile, non più liberante possibile. Cioè che, ci ho scritto, liberarsi da i sette peccati capitali che trovate su Amazon. Un libro molto liberatorio, molto evolutivo e che contiene anche esercizi. Ma al di là di quello che può essere un problema sociale della civiltà, al di là di quello che può essere un problema psicologico, derivato dalle credenze che hanno inserito all'interno della nostra mente, così come dice Ermete, nell'universo tutto è mente, quindi il mondo che creiamo, lo creiamo in base a quello che crediamo che diventa il nostro destino, dice anche la famosa legge di risonanza-attrazione. Ma, nonostante abbia lavorato per tanti anni con questi strumenti, c'era ancora qualcosa che mancava, c'era ancora qualcosa di occulto. E questo qualcosa stava in una parolina che furbamente Kvaciosky hanno messo in bocca a Morpheus. Dipendenza. La chiave è la dipendenza emozionale. La dipendenza emozionale non viene dall'adulto. La dipendenza emozionale viene dal tuo bambino o dalla tua bambina interiore. Non è possibile fare reali percorsi di crescita interiore o di evoluzione spirituale a base di mantra, a base di quello che vi pare, se non si va a sanare prima il mondo cognitivo-emozionale del bambino interiore, che non è un accumulo di memorie al passato, ma un archetipo interiore sempre presente in ogni momento, perché sono le tue emozioni. È come tu interagisci emozionalmente con il mondo e con le cose che viene filtrato dalla mente di superficie, quindi dalla tua parte adulta, ma la tua parte istintuale, bambina, sta nella tua pancia, nel tuo intestino, nel tuo secondo chakra, detta all'orientale. Ebbene, il bambino nasce come una figura completamente dipendente sotto tutti i punti di vista e sviluppa un forte attaccamento sotto tutti i punti di vista materiale, emozionale, mentale ed energetico nei confronti delle persone che si prendono cura di lui. E questo va avanti fino a che non comincia a essere in grado di diventare sempre più materialmente indipendente, cominciando ad andare nel mondo e poi andando nel mondo del lavoro. Ma noi diventiamo indipendenti, forse, solo sul piano materiale. Perché non ci sono scuole, non ci sono corsi, non ci sono insegnamenti, in realtà ci sono, un po' difficili da trovare, perché sono esoterici e occulti, che ti spieghino come si diventa emozionalmente indipendenti e quindi terminare di proiettare il proprio bisogno emozionale sugli altri. Perché il bambino nel momento in cui diventa prima adolescente, preadulto e adulto non è che diventa da un punto di vista emozionale indipendente, non impara a bastare a se stesso, no, impara a spostare dai genitori su altre persone quel bisogno di amore, quel bisogno di protezione, quel bisogno di accoglimento, quel bisogno di essere vivo e quel bisogno di essere amato. E questo lo può proiettare non soltanto sulla prima fidanzata, sugli amici, sulla compagnia, sui professori, sul mister, ma andando avanti e diventando adulto lo va proiettando su entità sempre più immaginali come la scienza, la religione, la politica. Quindi club, tra virgolette, egregore o ideologie alle quali delega il suo senso di esistenza che diventano il suo architrave mentale. Se io sostengo loro, loro sostengono me. E' un patto di mutua dipendenza, di mutua sussistenza. La società, o per meglio dire, le entità che popolano la società o che hanno costruito la civiltà nei secoli e nei millenni non ti permetteranno mai di diventare emozionalmente indipendente. Non te lo possono permettere, perché se no non esisterebbero più loro. Non esisterebbero più libri sacri, preti che fanno minacce alle persone, non esisterebbero più religioni che hanno bisogno di denaro, non esisterebbero più partiti politici che litigano tra di loro e che sfruttano il divide e timpera con le persone che litigano tra di loro. Non esisterebbero più queste cose, perché le persone non reagirebbero a livello emozionale quando vengono toccati rispetto a qualcosa che loro hanno identificato essere, qualcosa che li salva. tu mi tocchi la scienza, esplodono. Perché è il bambino che ha delegato alla scienza il potere di salvarlo. E questo perché noi non sappiamo come ci si occupa del nostro bambino interiore. Ed è per questo che dopo tanta ricerca, io e Josephine, qui allo studio Satya, abbiamo creato un percorso per liberare quel bambino, per liberare te dalle dipendenze emozionali, dalle dipendenze chimico-emozionali. Io non sto parlando soltanto delle dipendenze da droghe, delle dipendenze dal lavoro, quindi da quelle che sono pesanti dipendenze, che derivano dai traumi, che derivano dalle ferite infantili, che sono quelle che rinsaldano quella gabbia. Più traumi hai, più quella gabbia è pesante, più quella gabbia è forte, più è difficile andare a guarire e a sanare quel bambino, più è difficile diventare persone autonome, autodeterminate, che hanno una propria autorità interiore. Autos nomos, colui che si governa da sé, colui che si dà le sue proprie leggi. Un adulto che è in grado di contrattare con altri adulti del proprio spazio sacro e che non si fa continuamente invadere. Per creare un adulto sano ci vuole del tempo, ci vogliono degli strumenti appropriati e ci vuole dell'impegno, ci vuole della dedizione, perché non si ottiene né con poco tempo, né con poco sforzo, né con poche lacrime. Perché andare a scavare all'interno di quella pancia, lasciar parlare e riprendere contatto con quel bambino è andare ad aprire il vaso di Pandora e andare a scoprire quanta rabbia c'è ancora oggi nei confronti dei genitori e di tutto quello che è successo all'interno dell'infanzia. e lo dobbiamo fare per trascenderlo, per donare noi stessi, per non essere stati in grado di difenderci, per essere stati deboli, per i sensi di colpa, per le vergogne che abbiamo subito, per tutto quello che ha limitato il nostro spazio espressivo, la nostra creatività, la nostra gioia interiore, quello che ci ha abbattuto, quello che ci ha viziato, deviati dal percorso originario. non mi interessa se lavorerai su questo, se lo farai come Josephine, ma se vuoi sapere come dovrebbe essere fatto un percorso di guarigione su di sé, basta che scrivi studioosatia.it e atterri direttamente sulla landing page dove abbiamo preparato un videocorso proprio su questo. tolto questo, cerca di ascoltare la tua pancia e le tue emozioni, il tuo cuore, perché è lì che si cela la chiave della tua guarigione interiore. Come disse il giovane samurai Nathan Oldren, l'ultimo samurai, no mente, tu troppa mente, tu mente passato, tu mente futuro, tu mente persone, troppa mente, no mente. Grazie a tutti.